Convegno di CIA sull'irrigazione oggi, lei ha sottolineato quanto sia importante anche modificare alcune misure del PSR regionale. Sì, è fondamentale perché alcune misure tengono conto di cose esistenti e quindi di migliorie che si possono fare a impianti di irrigazione, cioè consorzi di irrigazione già esistenti. È previsto nulla per dei consorzi nuovi. Una buona irrigazione in olivicoltura significa un prodotto migliore e più prodotto? Significa più prodotto, significa limitare l'alternanza da annata a annata. Per quanto riguarda l'oliva da mensa sicuramente diventa una cosa indispensabile, perché non è pensabile produrre delle olive da mensa senza irrigazione. Agricoltura, irrigazione e tecnologia vanno d'accordo? Devono andare d'accordo. La tecnologia ormai esiste, esiste anche a costi molto contenuti. Quello che manca sono le infrastrutture, manca la materia prima, manca portare l'acqua nell'entroterra.